Operazione dei carabinieri di Martano che hanno rinvenuto in una villa situata sulla provinciale Melendugno, Torre dell'Orso, una vera e propria piantagione di marijuana. Il proprietario, Domenico Di Nardo, un insospettabile geometra sessantenne di origini campane, residente a Varese ma domiciliato a Melendugno, è stato arrestato per produzione e coltivazione di marijuana, detenzione abusiva di armi e munizionamento. Nel corso di una specifica attività investigativa i militari hanno effettuato una perquisizione all'interno della villa, dove da tempo erano forti i sospetti che potesse celarsi una piantagione di marijuana, anche per mezzo di alcune ricognizioni aeree fatte dai militari. La conferma è arrivata durante la perquisizione, quando è spuntata tra la vegetazione una serra grande 12 metri per 10, con all'interno una vera e propria boscaglia di cannabis. Ben 36 rigogliose piante di marijuana, di altezza compresa tra i 3 e i 4 metri. Poco distante altre tre piante, sempre di marijuana, alte 2 metri ciascuna e materiale vario per la coltivazione della cannabis. All'interno della villa, nascosti in più barattoli di vetro sparsi tra le varie stanze, sono stati trovati altri 500 grammi di marijuana, già essiccata e pronta allo spaccio. Nella camera da letto, chiusa in una cassaforte, una pistola regolarmente denunciata presso l'indirizzo di residenza e pertanto illegalmente detenuta presso il domicilio di Melendugno. All'interno del tamburo della pistola erano inserite 7 cartucce calibro 357 Magnum, pertanto l'arma era pronta ad essere utilizzata. Infine, all'interno di una casetta di legno è spuntato un fucile da caccia illegalmente detenuto. Inoltre sono stati rinvenuti ulteriori 86 cartucce calibro 357 Magnum e 41 cartucce calibro 12. Come si diceva, per Domenico Di Nardo sono scattate le manette, mentre è stata deferita in stato di libertà per i medesimi reati in concorso anche la compagna convivente, una 33enne di origini rumene. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Lecce.